Con l'interpellanza noi facciamo un quadro a 360 gradi sulle problematiche della sicurezza che investono la città di Pescara. Non ultimo, l'ultimo caso, proprio ieri c'è stato un accoltellamento a 20 metri da noi, dove ci troviamo noi. Questa è una città che purtroppo vive questa emergenza sicurezza. Domenico Pettinari torna con forza sul tema sicurezza a Pescara, raccontando quello che è accaduto ieri sera nella zona di Piazza Santa Caterina, nota per diventare la sera terra di nessuno. Punto sensibile scelto non a caso per la denuncia di questa mattina, come ricorda Luca Liberati. Abbiamo voluto scegliere un posto simbolo della città, dove ricordiamo che nel lontano 2018 l'attuale sindaco Carlo Masci decise di fare il primo consiglio comunale promettendo che la situazione sarebbe da lì a cinque anni cambiata e ribaltata. Siamo di nuovo qui dopo sei anni e la situazione appare la medesima. Sicuramente questa zona nelle ore notturne è ostaggio di microcriminalità e di avventori che con dubbi fini tengono ostaggio commercianti e residenti di situazioni di degrado non più tollerabili. In merito all'interrogazione che verrà discussa in consiglio comunale mercoledì mattina, diverse le richieste. Servizio H24 della polizia locale, ripristino del vigile di quartiere ma anche altro. Ancora pettinari. Poi chiediamo che il sindaco si faccia parte di licenze nei confronti dei ministeri competenti per attivare l'operazione strade sicure che hanno altre città d'Italia e con l'ausilio anche dei militari dell'esercito alle forze dell'ordine. Chiediamo tante altre cose per garantire il sistema di videosorveglianza e il sistema di controllo delle targhe. Una delle città che non ha il controllo delle targhe collegato alla blacklist nazionale significherebbe intercettare tutte le macchine che entrano nel quadrilatero, che sono macchine rubate, intercettare l'auto rubata e individuarla con un sistema elettronico e telematico significherebbe bloccare, scongiurare decine e centinaia di furti che vengono fatti con le spaccate nei negozi e nelle abitazioni. Ecco non vogliamo più che si parli di sicurezza solo quando c'è un accoltellamento o un omicidio perché tutti sono bravi a parlare quando c'è stato un omicidio purtroppo di quel povero ragazzo al parco Badenbaum e poi tutti dimenticano che c'è questo problema nella nostra città. Noi non ti dimentichiamo.